Vogliamo parlarti di Gesù Dio è sempre buono, pace a tutti, siamo di nuovo insieme in questo nostro incontro con la parola del Signore Il nostro programma ci insegnava le scritture, ci sollecita, ci spinge a studiare la Bibbia, la parola di Dio insieme Anna è con noi, mi dà una mano a leggere i versetti della Bibbia Ma naturalmente vogliamo prima di ogni cosa pregare Padre ti ringraziamo per Gesù e ti lodiamo per tutto quello che fai per noi Grazie perché le tue parole, le parole della Bibbia sono spirito e vita Noi non siamo davanti a un libro terreno, umano, ma alle tue parole E con grande rispetto e dignità ci accostiamo a te sapendo che tu parli e i cieli tremano Eppure hai parlato ai nostri cuori sussurrandoci parole d'amore e dicendoci che tu ci ami Vuoi parlarci attraverso la tua parola riguardo a questo soggetto spirituale nel nome di Gesù, benedetto in Eterno Vogliamo studiare e considerare insieme l'eutanasia, la morte volontaria senza dolore C'è un diritto alla morte? Di chi è la decisione? È lecito uccidere per pietà? La legge dovrebbe consentire la soppressione degli inguaribili? E fino a che punto è lecito alleviare la sofferenza? Sono domande che ci si pone L'eutanasia, morte volontaria senza dolore Vediamo prima di tutto la parola Nel suo significato significa ben morire Viene dal greco Buona, bella, dignitosa E poi morte La parola oggi indica Una morte serena, indolore, volontaria Di malati terminali o cronici in presenza di assistenza medica La parola nelle lingue moderne occidentali fu introdotta da un filosofo inglese Bacon Francis Invitava i medici a non abbandonare i malati inguaribili E ad aiutarli a soffrire il meno possibile Non vi era l'idea di dare la morte Gli attribuiva il significato etimologico di buona morte C'è morte non dolorosa Lo scopo del medico, lui diceva, doveva essere Quella di far sì che la morte comunque sopraggiungesse in modo naturale Fosse però non dolorosa La parola iniziò ad avere un corso comune a partire dalla fine del XIX secolo Iniziò a indicare un intervento medico tendente a porre fine alle sofferenze della persona malata In tale periodo è emerso esplicitamente il concetto di uccisione per pietà Talora, anche se non sempre, identificabile con la fattispecie dell'omicidio del conceziente L'eutanasia Morte volontaria senza dolore Vediamola nel tempo E vorrei dirvi che Questo introduce inevitabilmente delle domande Che è giusto ed ovvio che noi ci poniamo Intanto vogliamo subito dire che i popoli più o meno barbari eliminavano gli anziani Perché li ritenevano inutili E per il medesimo motivo facevano morire i bimbi Deformi, deboli Sia maschi che femmine Era ritenuta una uccisione per misericordia Il decreto sull'eutanasia Approvato da Hitler nel 1939 Inizio seconda guerra mondiale Portò alla morte di oltre centomila cittadini tedeschi malati di mente L'eutanasia Morte volontaria senza dolore Nel tempo è stata poi però Come era ovvio che fosse Combattuta dal cristianesimo Fu il cristianesimo che divulgò il comandamento Dato a Mosè Non uccidere Che si può anche tradurre Non assassinare Esodo 20 verso 13 Anna legge Non uccidere E la vita umana vogliamo dirlo è sacra E chi sopprime la vita umana Dovrebbe essere privato della propria Secondo l'insegnamento precedente a Gesù Ma anche alla legge di Mosè Genesi 9,6 Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo Sarà sparso dall'uomo Perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine Come vedete al tempo di Noè Furono dette queste parole Prima ancora della legge di Mosè Invece Mosè ne parlò per altro motivo Che ora leggiamo In numeri 35 Da 30 a 32 Se uno uccide un altro L'omicida sarà messo a morte In seguito A deposizione di testimoni Ma un unico testimone Non basterà per far condannare a morte una persona Non accetterete prezzo di riscatto Per la vita di un omicida colpivole E digno di morte Perché dovrà essere punito con la morte Non accetterete prezzo di riscatto Che permetta a un omicida Di mettersi in salvo Nella sua città di rifugio E di ritornare ad abitare nel paese Prima della morte del sacerdote L'omicida involontario Poteva aspirare a trovare il rifugio Se ci arrivava alla città di rifugio E alla morte del sommo sacerdote Poi poteva aspirare a tornare a casa Senza essere toccato dai parenti Più prossimi della vittima Che potevano legalmente farsi giustizia Ma il cristianesimo Ha ribadito il concetto Naturalmente alla luce Della legge dell'amore di Gesù Matteo 19, 18 Quali? Gli chiese E Gesù rispose Questi Non uccidere Non commettere adulterio Non rubare Non testimoniare il falso Come vedete Il cristianesimo ha ribadito Di non uccidere Traducibile anche Non assassinare L'apostolo d'amore Giovanni In prima Giovanni La prima epistola di Giovanni 3, 15 Dirà Chiunque odia suo fratello E omicida E voi sapete che nessun omicida Possiede in se stesso La vita eterna Non puoi essere un omicida E avere dentro di te La vita eterna Parentesi Capro e chiudo A beneficio dei nostri Amici Che seguono il programma Dalle carceri Pastore Stai dicendo Che non c'è perdono per noi? No Sto dicendo Che nessun omicida Ha in sé la vita eterna Ma se tu ti penti Dei tuoi peccati E li lasci E chiedi a Dio Di salvarti E perdonarti Il sangue di Gesù Può purificarci Da ogni peccato L'eutanasia Morte volontaria Senza dolore Introduce Delle domande E la prima Di queste domande È se consentire o no La soppressione Degli inguaribili Per i cristiani Nessuno Unanimemente Può trasformare Un delitto In un diritto L'innocente Per un cristiano Non può essere ucciso Da nessuno Il consenso Del candidato All'eutanasia Equiparrebbe al suicidio Negli altri casi Si tratterebbe Di omicidio La vita Fa rispettata E preservata È un dono Di Dio Salmo 36 Verso 9 Poiché in te È la fonte della vita E per la tua luce Noi vediamo la luce La fonte della vita È nel Signore Se la fonte della vita È nel Signore Allora noi Non possiamo E non dobbiamo Togliere la vita A nessuno L'eutanasia Morte Volontaria Senza dolore Introduce una seconda domanda Del se è Lecito Alleviare Le sofferenze E fino a che punto La risposta è sicuramente Fino a qualsiasi livello Purché siano leciti I mezzi usati La liceità Si deve sempre basare Ovviamente Sugli effetti dannosi Che tali mezzi Possono provocare Alcuni accelerano La morte Il che è illecito Nel suddetto caso Bisogna distinguere Tra farmaci Che provocano morte Quelli che Tolgono il dolore Ma breviano la vita Altri medicinali Poi Privano della coscienza Completamente Ma questo richiederebbe Un permesso preventivo Da parte del malato Laddove possibile Romani 9.1 Dico la verità in Cristo Non mento Poiché la mia coscienza Me lo conferma Per mezzo dello Spirito Santo Vedete L'Apostolo Paolo Aveva una coscienza Che gli confermava Per mezzo dello Spirito Santo Determinate cose Non dovremmo quindi Come cristiani Aspirare a vivere Un giorno Senza coscienza E volontariamente Assumere farmaci Che Non ci fanno più Stare coscienti Naturalmente Questo in vista Di darci la morte L'eutanasia Morte volontaria Senza dolore Ha risposte Complicate Dal fatto Che non c'è Una definizione Uniforme Di vivo O di morte Di inguaribile Morente Ma in Dio Questa risposta c'è Isaia 38 Verso 16 Signore Mediante queste cose Si vive In tutte queste cose Sta la vita Del mio Spirito Guariscimi dunque E rendimi la vita Rendimi la vita Pregava Il re Ezechia A cui è stato detto Che la sua vita Era finita E che si doveva Preparare Vogliamo concederci Una breve pausa musicale Perdonato Per Gesù Condannato Sono accettato Perché Gesù Mi ha trasformato Grazie al suo amor Morendo sulla croce Gesù ha dato Tutto per me Immenso amor Per mio Gesù Per me Morissimi Signore Per me Alla croce Immenso amor Per mio Gesù Per me O mio Re Morissimi Per me Io sono qui Per te Per te Gesù Sono perdonato Perché Gesù Fu condannato Sono accettato Perché Gesù Mi ha trasformato Grazie al suo amor Morrendo Morendo sulla croce Per me Per me Per me Per me Per me Io sono qui Per me Che Gesù Cristo tu Cristo tu Sei il mio Re Cristo tu Sei il mio Re Cristo tu Sei il mio Re Per me Per me Per me Per il mio Re Per il mio Re Per il mio Re Grazie Eccoci Per me Per me Guardare Davide Perö Per me Per me Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò suca. Non fu aiutato nell'eutanasia che voleva darsi, ma davanti alla sua sconfitta si voleva togliere la vita. Invece guardate che accadde dopo, secondo Samuele 1, 9, 10, 14. Egli mi disse, avvicinati a me e finiscimi, perché sono preso da vertigine, anche se sono ancora vivo. Io dunque mi avvicinai e l'ho uccisi, perché sapevo che una volta caduto non avrebbe potuto vivere. Poi presi l'adema che gli aveva in capo, il braccialetto che aveva al braccio, e li ho portati qui al mio Signore. Davide gli disse, come mai non è temuto di stendere la mano per uccidere l'unto del Signore? Quindi i fatti andarono presso a poco così. Saul voleva qualcuno che lo aiutasse a morire, quindi una eutanasia. Questo qualcuno, lo scudiero, non ha voluto farlo. L'insegnamento per il popolo di Dio era, non toccherai l'unto del Signore. Il re Davide non volle mai farlo, nonostante che il re Saul lo perseguitasse prima che Davide diventava re. Lo scudiero non volle farlo. E allora lui tentò il suicidio, ma non gli riuscì bene. Passò quest'uomo, non era del popolo di Dio, geograficamente parlando, come razza parlando, e quindi non si fece scrupolo. Lo vide che non se la poteva cavare per la ferita riportata, e così lo aiutò a morire. Il re Davide gli disse, come non hai temuto? E lo punì. L'eutanasia, morte volontaria senza dolore, vediamolo insieme nelle risposte della Bibbia. Rebecca era preoccupata del suo stato di salute. Che gli succedeva? Gli succedeva quel che tra un istante leggiamo in Genesi 25 e 22. I bambini si urtavano nel suo grembo e Della disse, se così è, perché vivo? E andò a consultare il Signore. A quel tempo le conoscenze delle gravidanze non erano le attuali. Oggi non ci si sarebbe preoccupati in maniera così forte, forse. Ma davanti a questo movimento che avveniva dentro di sé, perché erano gemelli, lei andò a consultare il Signore. Una buona lezione per chiunque vuole, in uno stato di salute non buono, compiere delle scelte mediche, fare delle cure, attuare delle pratiche. Invece di dipendere da questo e quest'altro che ti dice le sue opinioni personali, fai come Rebecca, vai a consultare il Signore. Lui parlerà certamente al tuo cuore. Il re Ezechiele aveva effetto da un male inguaribile e Dio gli disse, non guarirai, preparati a morire. Prima o poi tutti dobbiamo lasciare questa terra. Questo ci insegna che fino all'ultimo c'è speranza. Se ti dai leutanesia, la dolce morte cosiddetta, inibisce a Dio la possibilità di guarirti. Secondo ore 20, versi 1 e 5. In quel tempo Ezechiele si ammalò di una malattia che doveva condurla alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amos, andò da lui e gli disse, così parla il Signore. Dai i tuoi ordini alla tua casa, perché tu morirai, non guarirai. Torna indietro e dia Ezechiele, principe del mio popolo. Così parla il Signore. Dio di Davide tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Io vorrei dirvi che non sarebbe mai guarito se avesse scelto l'eutanasia. Invece pregò Dio e Dio rispose alla sua preghiera e lo guarì. Apro e chiudo però una parentesi. Spesso non accettiamo di lasciare questa terra perché non vogliamo lasciare i nostri familiari, perché ci preoccupiamo di lasciarli soli, oppure perché siamo attaccati alla vita ed è normale che sia così. Ma Dio sa qual è il momento giusto per noi. Ezechiele chiese e ottenne la guarigione. Dio rispose a quest'uomo fedele. Ma furono gli anni peggiori della sua vita. Furono gli anni in cui l'orgoglio pervase il suo cuore. E lui sbagliò. E sbagliò ripetutamente. Quei 15 anni non furono per lui la cosa migliore che gli poteva accadere. Così accettiamo la volontà di Dio, ma confidando che Dio dà e Dio toglie. E sempre dovremmo dire sia benedetto il nome del Signore. Isaiia 38, verso 9. Scritto di Ezechia Revi Giuda in occasione della sua malattia e della guarigione dal suo male. Non avrebbe mai potuto scrivere le belle parole che scrisse. Se avesse fatto ricorso all'eutanasia, visto che Dio dice che non guarirò, me ne voglio andare subito. Aspetta il momento del Signore. E chissà che non sta ascoltando qualcuno che pensa che per lui ormai è finita. Potresti invece scrivere un nuovo canto della tua vita. Un nuovo testo della tua esistenza. Un nuovo scritto della tua storia. E dire, me ne stavo andando per il luogo dove non c'è nulla. Silenzio e oscurità. Ma il Signore mi ha toccato, mi ha guarito e mi ha aiutato. Questa può essere la tua storia se non farai uso dell'eutanasia. Non bisogna mai disperarsi. Neanche nel caso di vicende dolorose. Presto tutto finirà. Salmo 41, verso 3. Il Signore lo sosterrà quando sarà a letto ammalato. Tu lo consolerai nella sua malattia. Vorrei dire che Dio promette che ci consolerà nella nostra malattia. Quanti credenti ci sorprendono, vero? Abbiamo la gioia a volte di fare delle visite pastorali a credenti ammalati e pensiamo come sarà dura, Signore, che gli dirò è un male incurabile. E invece poi arriviamo in questi posti e ci viene detto che gioia, pastore, vederti. Sono proprio contento di stare con Gesù. Quando andiamo via un po' pensierosi, pensiamo. Ma Signore, sa che è condannato a morte e guarda come è sereno. Se tu non fai un miracolo deve morire, lo sa. Cosa gli dà questa perfetta pace? Questa perfetta pace è quella che dà Gesù il quale un giorno ha detto io vi lascio pace io vi do la mia pace io ve la do come nessun altro la dà. L'eutanasia, morte volontaria senza dolore. Abbiamo considerato la parola abbiamo visto il concetto nel tempo abbiamo visto che questo introduce delle domande abbiamo visto le risposte della Bibbia Gesù insegnò che la vita umana ha un grande valore agli occhi di Dio Padre Luca 12, 6 e 7 Cinque passeri non si vendono per due soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati non temete dunque voi valete più di molti passeri voi valete molto più di molti passeri la vostra vita è importante per Dio Dio non si è dimenticato di te Dio sa tutto di te e noi vogliamo chiedere insieme a te il suo aiuto e presentarti al Signore preghiamo insieme Padre ti vogliamo ringraziare per Gesù il nostro Salvatore Benedetto domandiamo il tocco della tua mano per ogni malato, malata che sta chiedendo in quest'ora sì Signore io voglio uscirne ci saranno molte mamme molti padri che non vogliono lasciare i loro figli prematuramente ci saranno molti figli che non vogliono dare questo dolore di una morte prematura ai genitori ci saranno molte persone che in questo momento sono tentate basta voglio farla finita non ce la faccio più a soffrire dè Signore tu che ci hai parlato del tuo punto di vista sul fine vita concedi il tocco della tua mano in liberazione, in guarigione e noi proclamiamo guarigione e liberazione per ogni persona che in questo momento ti sta dicendo toccami adesso te lo chiedo nel nome di Gesù crediamo che ascolteremo che tu hai guarito e liberato delle persone benedici anche ogni infermo che è in ospedale raggiungilo lì dove è ogni persona che è in un letto di infermità da tanto tempo con malattie croniche con vecchiaia che avanza rapidamente sempre di più oh Dio nostro dai le tue consolazioni rimani con noi grazie per il tuo aiuto nel nome di Gesù benedetto in eterno Dio vi benedica pace a tutti vogliamo parlarti di Gesù vogliamo raccontarti il suo amor che dal peccato liberò il cuore unire il cielo ci porterà vogliamo parlarti di Gesù speranza pace e gli ci vedono al giorno che il cuore ci tocco unire il cielo ci porterà e dal peccato liberò il cuore unire il cielo ci porterà e dal peccato liberò il cuore grazie a tutti grazie a tutti